Una carriera che ha toccato tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, presidente della provincia di Teramo, assessore alla sanità e presidente della regione Abruzzo, poi senatore e sottosegretario alla sanità nel governo Berlusconi. Rocco Salini è stato un protagonista della storia e della vita politica teramana regionale e nazionale, attraversando la prima e la seconda repubblica praticamente sempre fedele alla democrazia cristiana. Classe 1931, quella di Salini è stata una lunga carriera politica, costellata di successi ma segnata anche dall'intervento della magistratura per lo scandalo dell'uso scorretto dei 450 miliardi dei fondi POP che portò nel 92 all'arresto dell'intera giunta regionale. Nel 2000 il ritorno in consiglio regionale con Forza Italia ma in quanto interdetto dai pubblici uffici nel 2002 dovette dimettersi prima di essere dichiarato decaduto. In senato è stato presidente della commissione sull'uranio impoverito fino alle dimissioni per contrasti con la maggioranza. Nel 2005 in vista delle elezioni regionali abruzzesi è stato a capo della lista terzo polo, subito confluita nella casa delle libertà di Silvio Berlusconi che contestualmente lo nominò sottosegretario alla sanità del suo governo. Le urne però premiarono il centrosinistra capitanato da Ottaviano del Turco con Salini estromesso dal suo incarico di sottosegretario solo un mese dopo averlo ricevuto. Poco dopo il passaggio all'Udeur ed infine l'adesione nel 2008 alla nuova democrazia cristiana. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, in una nota, ha ricordato la figura di Salini sottolineando come se ne sia andato un altro esponente di quella idea politica intesa e spirito artigianale fondata sulle percezioni, sull'intelligenza, sull'intuito istintivo di chi la praticava e non avvezza agli equilibrismi, alle elaborazioni compromissorie cui siamo oggi abituati. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, invece, ha ricordato come Salini incarnasse l'uomo posseduto dalla passione per la politica. Il suo spirito battagliero, scritto in una nota, lo ha aiutato anche nei momenti più difficili dai quali è sempre riuscito ad uscire con le proprie forze. Salini si è spento nella clinica Spatocco a 85 anni dopo una lunga malattia. La famiglia ha annunciato che i funerali saranno celebrati in forma privata.